Ciao, per i miei cuccioli Ettore, lui e Atena Lei, due Voodoo francesi, ho scelto le crocchette Dogbauer perché finalmente sono riuscita a trovare la combinazione giusta per far passare tutti i problemi legati alla dermatite dei miei piccoli bolletti. Un'azienda seria, valida, precisa nelle spedizioni e sempre pronti a offrirti un consiglio e una consulenza. Sono davvero felice di aver scoperto questo ottimo prodotto e sono felice anche loro. Ciao!